Grazie Presidente, come lei ha detto questa mozione tratta un tema molto importante che è quello dei roghi tossici, negli ultimi anni le forze di polizia nazionale ma anche la polizia locale hanno fatto diversi interventi con sequestri di terreni, denunce e arresti, ma questa mozione prende spunto da una risoluzione del Municipio Settimo votata a maggioranza dove segnalano l'esistenza di un'associazione, Caffarella Non Rochi Tossici, che ha fatto un ottimo lavoro. La mozione è stata promossa dalla consigliera Maura All'Abiso, che ringrazio anche perché mi ha sostenuto nella redazione di questa mozione e quello che ci hanno fatto notare è che questa associazione sul territorio della Caffarella ha fatto un ottimo lavoro. Creando delle relazioni con le forze di polizia nazionale sono arrivati addirittura a far arrestare cinque persone, a far indagare sette persone, a far sequestrare un'area di duemila metri quadri, a denunciare un'impresedire che faceva degli sversamenti in modo illecito. Io ho conosciuto l'organizzatore Flavio De Settis, una persona molto equilibrata, molto brava, che ha saputo tenere insieme tutte queste persone, che ha intessuto questi rapporti con le forze di polizia. Quello che vi viene chiesto da parte del Municipio Settimo è poter replicare questo modello in altri quadranti della città. Visto gli ottimi risultati che sono stati riscontrati, a questo punto è opportuno che cogliamo questo invito da parte del Municipio e per cui scriviamo questa mozione dove invitiamo la Sindaca e la Giunta a far sì che il Capo di Gabinetto organizzi questo tavolo interforze per affrontare il tema dei rocchi tossici dove ovviamente possa essere invitata anche questa associazione in modo tale che si possano delineare nel dettaglio quali sono le modalità e le modalità positive che hanno fatto sì che si potessero raggiungere questi risultati. Io ho colto l'occasione con questa mozione di poter anche raccontare quello che Roma Capitale ha fatto in questi anni, perché non è stata con le mani in mano. La Sindaca ha fortemente voluto un gruppo di polizia locale che si occupasse del contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti, che è l'inizio di quello che poi in alcuni casi diventano rocchi tossici, con la costituzione di un nucleo della polizia locale che poi si è chiamato nucleo ambiente decoro. È il nucleo che tra l'altro gestisce anche le fototrappole che stanno funzionando molto bene, ma nell'arco di questi anni ha attivato anche delle indagini. C'è stata un'indagine che è durata oltre un anno. Pensate che sono arrivati all'obiettivo di far sequestrare un'area di 13 mila metri quadri a denunciare diverse persone. E questo con un'indagine molto lunga, che ha avuto delle denunce anche in procura, ma si sono avvalsi anche dell'ausilio e dell'aiuto di un'associazione di protezione civile che era proprietario di un drone. In un altro caso abbiamo avuto un agente della polizia locale, un neo-agente della polizia locale del 14esimo municipio, che io voglio ringraziare pubblicamente. Questo agente della polizia locale ha acquisito le conoscenze in via personale per la guida dei droni, ha messo a disposizione queste sue competenze al gruppo del 14esimo, ha messo a disposizione addirittura il drone e sono riusciti con questo aiuto e questa proattività di questa gente della polizia locale a individuare una discarica abusiva di 6.400 metri quadri, dove effettuavano dei rochi tossici, alla denuncia di tre persone, per cui un ottimo lavoro. Questo vuol dire che è stato fatto un certo lavoro da parte anche dell'amministrazione, ma a questo punto bisogna andare a mettere insieme tutti i tasselli di questo puzzle, dove tutti gli soggetti che hanno fatto qualcosa su questo tema si possano incontrare ad un tavolo e possano mettere insieme le proprie esperienze per contrastare con maggiore forza questo fenomeno che è un fenomeno che dà estremamente fastidio alla cittadinanza, ovviamente per i motivi che possiamo immaginare, per gli odori, per gli inquinamenti, per tante ragioni. Per cui Roma Capitale a questo punto deve mettere sul campo delle forze maggiori per poter arrivare a contrastare questo fenomeno e tra le varie indicazioni che vengono messe all'interno della mozione c'è anche quella della formazione degli agenti della polizia locale. La polizia locale deve essere il perno di questo lavoro e deve essere al centro di questa attività. Io, visto che tante polizie locali di diversi comuni in Italia adesso stanno utilizzando i droni con formazioni interne delle polizie locali per contrastare fenomeni di reati amministrativi o penali con l'utilizzo dei droni e lo stanno facendo molte cittalità sugli argomenti più svariati. Ecco allora, noi chiediamo con questa mozione che almeno 10 agenti della polizia locale siano formati per la guida dei droni. Crediamo che questa cosa sia assolutamente importante, che vengano individuati questi agenti tra coloro che si concentrano le loro attività nel contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti, ai roghi tossici, ma gli argomenti su cui poi effettivamente la gente e i droni possono essere utilizzati sono effettivamente molteplici. Peraltro vogliamo cogliere un altro elemento importante. Roma Capitale nel corso di questi anni ha addirittura assunto 1300 nuovi agenti della polizia locale. Diciamo che come numeri siamo a quelli che effettivamente c'erano nel 2016. Questo perché le persone che sono andate in pensione sono state reintegrate con energie fresche. Questa è una cosa che da tanti anni non c'era un ricambio generazionale. Questa amministrazione si è impegnata in questo obiettivo e sta facendo un grandissimo lavoro da questo punto di vista. È una cosa importante perché le forze nuove peraltro generano magari persone che sono proattive, che hanno queste capacità, che mettono queste competenze anche personali alla disposizione della polizia locale. Questo non può che far piacere. Per cui bisogna queste nuove forze utilizzarle formandole e quello che noi individuiamo è anche una formazione per poter esercitare il servizio in bicicletta. Questo per quale ragione? Perché con i roghi tossici i territori da controllare sono vastissimi, molto spesso lo fanno in dei campi assolutamente sperduti. C'è la necessità di poter intervenire con degli strumenti più agili piuttosto che le macchine e le moto. Noi stiamo vedendo che in altre città l'utilizzo dei agenti della polizia locale in bicicletta vengono utilizzati in tante città. Peraltro da un'indagine esce fuori che gli agenti della polizia locale in bicicletta vengono considerati dalla cittadinanza in modo più amichevole e in alcuni casi riescono a intervenire in maniera più agile e più veloce, per cui sono più efficaci nel controllo del territorio. Pertanto noi con questa mozione andiamo a chiedere anche che 50 agenti della polizia locale vengano formati. Ci sono dei corsi che vengono fatti per poter esercitare i propri compiti con l'uso della bicicletta, per cui chiediamo che vengano formati questi 50 agenti. Sappiamo che nella consigliatura precedente con Marino c'era stato un tentativo di poter formare degli agenti per poter esercitare il servizio in bicicletta, poi questa cosa non è andata più avanti. Adesso ci sono le condizioni per poterlo fare perché c'è stato un cambio generazionale per tanti motivi, per cui riteniamo che sia il momento giusto per farlo. Peraltro questa amministrazione si sta impegnando tanto per poter ampliare le ciclabili nella città ed è la prima amministrazione che tra l'altro lo fa sulle strade normali per poter utilizzarli negli usi comuni della città e non come purtroppo era successo con le amministrazioni precedenti che in realtà sono strefatte diverse piste ciclabili ma per andare a passeggiare alla domenica. Questa amministrazione l'ha messa come impegno, qualche volta succede che purtroppo qualche incivile e in questa città ce ne sono diversi, qualcuno parcheggia la macchina sulla pista ciclabile, poter avere degli agenti della polizia locale che girano in bicicletta magari anche in queste piste ciclabili per poter multare coloro che non rispettano le regole che questa città si sta dando credo che sia il modo più giusto per poter far rispettare le regole a tutti per cui ritengo che questo sia un passo assolutamente in avanti che questa città possa e debba fare su questo tema e che poi la formazione degli agenti della polizia locale su cui questa amministrazione deve assolutamente puntare deve diventare il cardine anche proprio di questa attività con l'attività per il contrasto ai roghi tossici. Io voglio ripetere, voglio ringraziare il Municipio 7 che ha fatto questa risoluzione perché ci ha dato da stimolo a questo lavoro e per cui invito tutte le forze politiche a votare a favore di questa mozione. Grazie.